Musica Gentili colleghi buonasera, vi diamo il benvenuto a questa presentazione online della ottava edizione L'altra cucina per un pranzo d'amore. Avremmo voluto incontrarci in presenza ma il covid ci impedisce eppure siamo qua per questo momento comunque partecipato. Io salutando i relatori a cui tra poco daremo la parola, vi chiedo di rimanere collegati perché al termine di questo incontro ovviamente daremo alcune comunicazioni di servizio per poter partecipare all'iniziativa. Ringraziandovi fin da ora per l'attenzione e la collaborazione che sempre ci riservate, cedo subito la parola al nostro Gennaro Ferrara che modererà l'incontro. Grazie. Grazie Francesca e grazie a tutti gli amici che ci stanno seguendo in questo momento. Grazie per essere stato invitato a questa presentazione che sento molto da un punto di vista strettamente personale, un po' perché il mio ultimo bivio vocazionale è stato tra il fare il giornalista e tentare di lavorare nelle carceri e poi per ragioni private una passione smodata per la gastronomia. Detto questo oggi faccio il giornalista raccontando Papa Francesco. Papa Francesco lo sapete è stato anche qui a Rebibbia e visita sempre le carceri in quasi tutti i viaggi che fa. Di solito dice che quando entra in un carcere si domanda il perché sono quelle persone e non io all'interno del carcere e credo che questa sia una domanda fondamentale e sincera, non retorica, che Papa Francesco si fa e credo che lo spirito di questa iniziativa che stiamo per presentare ci dica esattamente quella, ci metta nelle condizioni che sente Papa Francesco, ci dia la possibilità di accorgerci che al di là dei percorsi diversi la fraternità è una cosa vera e essenziale e chiunque di noi nella vita anche se è capitato su vagoni di treni di classi diverse in qualche modo, quando fa un'esperienza di dolore o di grazia si rende conto di essere esattamente come tutti gli altri e che le differenze sono spesso delle barriere che mettiamo noi e che ciascuno può rinascere. E quindi benvenuti all'altra cucina per un pranzo d'amore, questa esperienza giunta ormai all'ottava edizione che quest'anno interesserà a causa Covid soltanto ma significativamente la Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia, la Casa di Reclusione di Milano Opera e la Casa Circondariale di Ivrea e l'Istituto Penale Minorile di Quartaccio di Cagliari. Una iniziativa nata dalla collaborazione di Prison Fellowship Italia, del rinnovamento nello spirito e della fondazione Alleanza del rinnovamento nello spirito. E che però evidentemente ha come elemento fondamentale le carceri, le direzioni e coloro che hanno scelto di ospitare. Insomma i padroni di casa, quelli che ospitano questa bella iniziativa che si terrà martedì 21 dicembre in quattro istituti, nei quattro istituti che ho citato. E dunque la parola prima di tutto alla padrona di casa, alla direttrice della Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia, la dottoressa Alessia Rampazzi. Grazie. Io non posso che esprimere la mia gioia a nome sia del personale della Casa Circondariale di Repibbia Femminile, sia delle detenute che ospitiamo per la ripresa di questa iniziativa. Per noi è molto importante soprattutto e non solo di questi tempi che vedono avvicinarsi la festività del Santo Natale. È particolarmente importante perché dimostra che la società civile non ci ha dimenticati, che facciamo parte integrante del tessuto sociale, che lavoriamo insieme per il recupero delle persone che sono affidate alle nostre cure. Il pranzo è un evento, il pranzo di Natale. Io sono tre anni che sono in servizio presso questo istituto ed è sempre stato un evento il pranzo di Natale, proprio perché è manifestazione di solidarietà, di fratellanza ed è occasione di grandissima gioia per tutti. Per cui io ringrazio ancora per l'iniziativa, per averci incluso tra le strutture che ospitano questo pranzo di Natale. Veramente grazie. Tra l'altro il tema del reinserimento ha a che fare anche con uno dei progetti che saranno presentati oggi. Partiamo dall'altra cucina per un pranzo d'amore e do subito la parola a uno dei due organizzatori. Mi verrebbe da dire quasi a due dei tre organizzatori, perché Salvatore è presidente del Rinnovamento nello Spirito, ma anche della Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito. Allora spiegaci questo appuntamento giunto all'ottava edizione, il significato e il valore. Grazie carissimo Gennaro, grazie a tutti voi che ci seguite da casa, dai luoghi nei quali vi trovate, in special modo gli operatori del mondo della comunicazione per la copertura, per l'aiuto che doneranno perché questa iniziativa possa essere diffusa. Io vorrei esordire salutando Papa Francesco, così come è stato fatto dal nostro moderatore. Oggi compie 85 anni e a lui rivolgiamo con affetto grato i nostri auguri, ad multos annos, anche per avere riportato all'attenzione e in un modo davvero particolare la premura per il mondo carcerario. Giova a ricordare che tra i primi e profetici gesti del suo pontificato, Papa Francesco fu proprio qui a Re Bibbia, il 2 aprile del 2015, era il giovedì santo, settimana santa, per lavare i piedi a dodici detenute e detenuti. Nella sua omelia Papa Francesco esclamò, Gesù ci amò, Gesù ci ama, ma senza limite, sempre, fino alla fine. L'amore di Gesù per noi non ha limiti, sempre di più, sempre di più, non si stanca di amare. A nessuno, ama tutti noi, al punto di dare la vita per noi, per tutti noi. Ha dato la vita per ognuno, con il suo nome e cognome. Il suo amore è così, è personale. Sono parole intense, parole vere, che alla vigilia del santo Natale di Gesù, che è proprio la festa della vita, del miracolo della vita, risuonano oggi forti nelle nostre coscienze. Amare senza limiti, amare senza avere paura di mettere in gioco la nostra vita, amare tutti e personalmente, perché ognuno è sempre qualcuno da amare. Il tempo che viviamo, i due anni di pandemia da Covid-19, hanno messo in sfida proprio la nostra capacità di amare. Come mai in passato tutti ci siamo ritrovati privati della libertà e bisognosi di amore. Tutti più fragili, più bisognosi di famiglia, di fraternità, di attenzioni personali, di futuro. In una sola parola, bisognosi di vita, di una vita buona, giusta. Pensiamo allora a un luogo come quello nel quale ci troviamo, a un carcere, o come a un ospedale, o a quei luoghi nei quali l'esperienza della privazione della libertà o del disagio o della sofferenza sono ordinari e finiscono per contrasto con l'esaltare proprio il valore della vita, la sfida del vivere e del non morire, del riconquistarsi il diritto di vivere, di tornare a vivere. Sì, senza amore si muore. Senza amore la vita perde di significato e di futuro. Senza amore risultiamo incomprensibili a noi stessi e agli altri. Senza amore poniamo solo alibi, rinvii, limiti alla nostra capacità di vivere insieme, in famiglia come in società, perché l'egoismo è scuola di crudeltà e l'individualismo è il veleno dell'amore. Nel 2020 non ci fu permesso di entrare in carcere per proseguire la storia di l'altra cucina per un pranzo d'amore. Seppure alla vigilia era tutto pronto per ritornare. La 2019 furono 12 le carceri coinvolte, con oltre 2000 persone detenute che furono serviti. Alla vigilia di questa edizione 2021 le città erano otto e avremmo così potuto salutare insieme il ritorno dell'iniziativa. La ripresa dei contagi e alcune difficoltà subentrate in alcuni istituti hanno reso impraticabili quattro delle otto carceri. Così che martedì 21 dicembre, come già stato ricordato, saremo a Roma, Milano, Cagliari e Ivrea. Con circa 800 detenute e detenuti, tanti volontari e il personale dell'amministrazione penitenziaria. Io desidero ringraziare il ministro della giustizia, il direttore del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i quattro direttori delle carceri, qui la dottoressa che ospita questo nostro evento. Dunque questi pranzi stellati per la disponibilità che ci è stata accordata, che è stata rinnovata in questi giorni, in queste ore. E vorrei dire è un fatto davvero eccezionale perché in un tempo come quello segnato dal Covid in cui tutto è particolarmente complicato, in un carcere vi assicuro questo si amplifica enormemente. Dunque la disponibilità e l'assunzione di responsabilità dei direttori è un fatto che va assolutamente segnalato. Ma vorrei anche ringraziare gli chef, gli artisti, i giornalisti, i benefattori, i tecnici, gli sponsor, i volontari che renderanno speciale questa edizione 2021. Ma fra poco vi sarà meglio illustrata dal presidente di Prison Fellowship Italia, il notaio Marcella Reni. Il gesto che vogliamo compiere martedì prossimo sarà davvero una speciale visita che credenti e non credenti, uomini e donne di buona volontà, vogliono gratuitamente e generosamente offrire per un altro Natale all'insegna di un'altra cucina e di un'altra fraternità possibili. Vedete ci sono forti idealità a fondamento di questo gesto che ci accingiamo a compiere. Siamo mossi dalla fede, alcuni di noi in modo decisivo, non ne possiamo certo fare mistero ed è in obbedienza a questa legge interiore che noi crediamo nelle parole di padre Ernesto Balducci che amava ripetere non ci rassegniamo al male e che San Paolo duemila anni prima aveva già fatto diventare una massima, vinci il male con il bene e direi in un'epoca ancora più recente Denis Diderot non basta fare il bene ma bisogna farlo anche bene. In un tempo che sta esaltando le diversità e che spesso però non riesce ad armonizzarle o a riconciliarle così che poi lo vediamo ogni giorno le diversità entrano in conflitto, in protesta, in violenza. Noi e tanti amici in diversi luoghi d'Italia vogliamo ridare il gusto, il sapore di cosa significa oggi essere veramente uomini e donne incarnati tra le pieghe dolorose di questo nostro tempo perché in realtà la pandemia, lo abbiamo visto e lo abbiamo imparato se ce ne fosse ancora bisogno, ci ha mostrato che ogni uomo, ogni donna è sempre lo spazio di un miracolo d'amore e al contempo ogni uomo, ogni donna fa esperienza dei propri limiti. E quando siamo più poveri, quando siamo nella prova, quando ci accorgiamo che da soli non riusciamo a farcela, allora noi impariamo a dipendere da Dio e a dipendere anche dagli altri, a ritrovare fiducia, a ridare fiducia all'altro. Ecco allora un'altra cucina è anche un altro spettacolo, è un altro modo di mettere i primi a servizio degli ultimi, senza riserve, senza limiti, alla generosità e alla creatività umana. Il gesto che si prepara allora contestualmente martedì 21 in quattro carceri d'Italia è un gesto di grande responsabilità civile, oltre che di rilevanza spirituale e sociale, perché dove c'è una persona che ha sbagliato, là si fa ancora più presente l'istanza di una giustizia che sia misericordiosa, cioè profondamente umana. Quanto è importante per le nostre società tornare ad essere concretamente misericordiose, soprattutto davanti alle nuove generazioni, ai nostri figli, sempre più inseriti in una cultura dello scarto, del conflitto, dell'indifferenza, della corruzione, del malaffare, che finiscono poi con il generare poveri e carcerati e soprattutto a incattivire il cuore della gente. Non si può costruire una società, una comunità umana più giusta per tutti senza un disegno solidale di Stato e di società, senza una visione chiara, integrale dell'uomo e dei suoi molteplici rapporti, a partire dalla famiglia, senza provare a risolvere le cause più profonde che sono alla base dell'attuale crisi, dell'attuale disagio sociale e in particolare il grave calo di tensione morale e spirituale che le nostre società registrano. Staremo a tavola insieme. È vero, non si può stare a tavola con nemici o con estranei, a tavola si sta con i familiari, si sta con gli amici, si sta con i colleghi, con gli omologhi, con persone da onorare o da ingraziarsi. A tavola si stipulano alleanze, a tavola si condivide la medesima gioia e ci si sente partecipi del medesimo affetto. Quando siamo seduti alla stessa mensa si allunnano le distanze, si abbattono le barriere, ci si riconosce partecipi dello stesso destino umano e che tutto questo avvenga proprio a Natale è per noi ancora più significativo perché il Natale di Gesù ci ricorda che Dio concede a ogni uomo, a ogni donna la possibilità di sperimentare la salvezza dal male. Se Gesù rinasce allora non può morire la speranza e allora sarà davvero rinascita dell'uomo, specie di quelli che chiamiamo ultimi e che la vita ha reso peggiori se non addirittura invisibili ai nostri occhi. Aiutiamoci allora è il mio appello finale e impegniamoci insieme come credenti, come cittadini, non appena a diventare più buoni e più giusti a Natale ma a disegnare ogni giorno e a proporre ogni giorno insieme cammini di redenzione umana autentici a difesa della dignità dell'uomo, degli offesi ma anche degli offensori, dei loro figli e delle loro famiglie perché a tutti sia data la possibilità di costruire o di ricostruire un vero destino di libertà. Grazie per avermi seguito, per aver preso parte a questa presentazione che adesso prosegue con altre informazioni e testimonianze che vi saranno offerte. Grazie Salvatore, ci hai spiegato il valore di questo pranzo d'amore ma anche i valori che l'hanno fatto nascere e realizzare fino a quella di quest'anno che è l'ottava edizione. Oltre ai valori però c'è anche un lavoro, un'organizzazione e allora chiederei al notaio Marcella Clara Reni, presidente di Prison Fellowship Italia, dunque dell'altro soggetto che ha voluto e organizzato questo appuntamento di farci in qualche modo sedere a tavola in anticipo e di capire che giornata sarà quella di martedì prossimo. Saluto tutti i presenti, in particolar modo la dottoressa Rampazzi che gentilmente ci ospita ma anche tutti voi lì presenti. Prison Fellowship insieme al rinnovamento nello Spirito Santo e alla Fondazione Alleanza si occupa anche di questo evento ma si occupa in maniera principale di giustizia. Giustizia in che senso? In senso ampio, dalle condizioni dei detenuti, dal sovraffollamento nelle carceri, dal cercare di aiutare nella promozione di norme che siano giuste per una giustizia giusta, ma in modo particolare il fiore all'occhiello di Prison Fellowship che è un'associazione che esiste in tutti i continenti in ben 112 nazioni al mondo e Prison Fellowship Italia da 12 anni ha a cuore la promozione, la divulgazione della giustizia riparativa con alcuni progetti portati avanti con grande successo anche a livello europeo proprio di giustizia riparativo con il progetto cosiddetto Sicomoro o Building Bridges. È un progetto che fa incontrare all'interno delle carceri i detenuti con vittime che hanno subito lo stesso reato agito dai detenuti che incontriamo. Un progetto che è sconvolgente per gli esiti che dimostrano che la giustizia riparativa davvero funziona e che c'è un altro modo di fare giustizia e noi chiamiamo questo anche l'altra giustizia. C'è un'altra giustizia anche con la R piccola e alta giustizia perché consente alle vittime di recuperare la serenità che è stata rubata dal reato subito ma consente anche ai detenuti di, sebbene a volte non è più possibile riparare perché il fatto commesso è irreparabile, non si può tornare indietro, tuttavia si può acquisire la responsabilità di ciò che è accaduto e cambiare strada, cuore, mente e quindi in questa maniera davvero la società ne ha un beneficio, l'intera comunità ne ha un beneficio. Per cui la giustizia riparativa è davvero un altro modo di fare giustizia, è un'altra giustizia e siamo molto contenti, soddisfatti direi del fatto che oggi un ministro di giustizia se ne occupi e ne parli. La dottoressa Cartabia recentemente ne ha parlato pubblicamente ma sappiamo quanto la giustizia riparativa, questo modo di fare giustizia alternativa alla giustizia tradizionale, quanto le stia a cuore e questo ci rende estremamente felici perché da ben 12 anni Prison Fellowship Italia porta avanti con grande successo i progetti di giustizia riparativa. Tra i tanti progetti di Prison Fellowship, per esempio il Camp for Kids che fa incontrare d'estate per dieci giorni di vacanza figli di detenuti con figli di vittime, facendo così riconciliare anche le famiglie ma a volte portando bambini che non hanno mai avuto una vacanza, portandoli a fare vacanze e cultura, anche questo è un modo per cui anche la società poi ne trae un vantaggio perché il carcere non è un luogo diverso dalla società, è all'interno della società. Ma tra i tanti progetti otto anni fa nasce l'altra cucina. Perché l'altra cucina? Perché non si tratta soltanto di preparare un pranzo di Natale per alcuni detenuti ma si tratta di preparare un pranzo speciale che faccia sentire uomini e donne ristretti davvero speciali perché ai fornelli ci sono persone speciali che sono chef stellati e a servire a tavola volti particolari, volti noti, volti noti del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport che si mettono a disposizione di quelli che sono considerati tradizionalmente gli ultimi e vengono invece serviti dai primi e questo fa la differenza perché questo livella tutto, crea solidarietà e genera buone prassi. Nel tempo, in questi otto anni, abbiamo avuto dei nomi veramente eccellenti e anche quelli di quest'anno non sono da meno. Per esempio mi viene in mente Heinz Beck, Cristina Bauerman, penso a Perbellini, penso a Iacobucci, penso a Lorenzo Cuomo, Pietro D'Agostino della Capinera di Taormina, penso a Matteo Baronetto, nomi veramente conosciutissimi. Quest'anno abbiamo Gianfranco Pascucci a Re Bibbia, ciao Gianfranco e grazie, davvero ringrazio tutti gli chef che si sono resi disponibili. Quest'anno la particolarità è l'eccezionalità dell'evento in tempo di Covid, non solo per le difficoltà nell'ingresso come potete immaginare, ma anche per la difficoltà di reperire gli chef e comunque tutti quelli che potessero rendersi disponibili perché per esempio a Milano all'ultimo istante abbiamo avuto la difficoltà di uno chef che si era dichiarato disponibile e che invece poi è stato colpito dal Covid e quindi abbiamo poi trovato soluzioni alternative. Ringrazio Ivan Milano di Pondefer che ci aiuterà in questa avventura e ringrazio tutti gli chef. Allora quest'anno l'evento si terrà in quattro carceri, ma nel tempo abbiamo avuto fin 12 carceri con 2000 pasti preparati e a servire ai tavoli nomi veramente illustri, cominciando da Ficarri e Picone, si sono passati il testimone moltissimi artisti, ne cito alcuni, Nec, Edoardo Bennato, Martufello, Annalisa Minetti, Beatrice Bozzi, Alessandro Greco, Amara, Marco Capretti, Beatrice Fazzi, Pamela Villoresi, Max Diotallevi, Francesca Fialdini, Nancy Brilli, ma veramente Gianni Testa. Non riesco neanche a ricordarli tutti perché sono stati davvero tantissimi. Nell'edizione del 2019 abbiamo preparato pasti per 2000 persone. Nel 2020, a causa della pandemia, siamo riusciti soltanto a donare le derrate perché poi all'interno degli istituti potessero essere preparati comunque i pranzi. Quest'anno gli istituti erano otto e poi però a causa del Covid pian piano, pian piano, siamo venuti restringendo per cause non volute da nessuno e siamo arrivati però con tenacia, voglio dire, a predisporre questo evento in quattro carceri. Quindi abbiamo Roma Re Bibbia e a Roma hanno dato la disponibilità con grande generosità, Gianfranco Pascucci del ristorante Pascucci al Porticciolo di Fiumicino, che poi sicuramente prenderà la parola. Quanto agli artisti avremo Lorella Cuccarini, che è una nota conduttrice televisiva, e poi i Cugini di Campagna e Saluto Tiziano, che è qui presente, poi tra i cantanti Francesca Alotta ed Erminio Sinni. Erminio Sinni è il vincitore di The Voice Senior del 2020. Attori, tantissimi attori, Davide Paganini, Francesco Castiglione, Giulia Fiume, Simona Di Bella. Poi abbiamo Gigi Miseferi, che fa il BIS, ci è già stato lo scorso anno facendo molto divertire le persone presenti, che è un comico, un presentatore, e avremo anche Paola Rivetta, Elenia Pietracalvina e Maria Soave come giornalisti. I pranzi preparati a Re Bibbia saranno oltre 320. Gli altri istituti sono Milano Opera. La particolarità a Milano è che i detenuti saranno 40, ma sono stati scelti tra i 40 meritevoli, i 40 che tra i 1200 l'Istituto Penitenziario ha ritenuto di voler, potrei dire, premiare. E perché premiare? Perché pranzeranno con le famiglie. Prepareremo 40 tavoli addobbati in maniera eccellente, con stoviglie incredibili e ci saranno i familiari. In ogni tavolo ce ne pranzerà una famiglia, quindi arriveremo ad oltre 160 persone, ma sarà una gioia vedere queste famiglie ritrovarsi per un vero pranzo di Natale. A servire a tavola ci saranno sei comici. Sei comici che sono un presentatore, già conduttore delle Iene, Niccolò Torielli. E poi avremo Pierpaolo Pollastri, Aurelio Cammarata, Renzo Sinacori, Eddie Mirabella, Rosy Cannas, Francesco Rizzuto e Salvatore Ferrara, che è presidente della Nazionale Italiana Comici. A seguire ci saranno dei giovani, dei giovani musicisti, oltre 28 giovani professionisti e non, dell'istituto secondario Rudolf Steiner di Milano, che offriranno, dopo che i comici avranno allietato i partecipanti al pranzo con la loro esibizione, alla fine ci sarà questo concerto natalizio tenuto da questi allievi della Steiner. Un altro istituto che siamo riusciti ad inserire tra i pranzi di Natale è quello di Ivrea, è la casa circondariale di Ivrea con ben 370 pasti e dobbiamo dire grazie, un grande grazie ad un'associazione locale che si chiama Itaca, che lavora tutto l'anno all'interno dell'istituto penitenziario e che ha voluto offrire questo pranzo per ben 370 persone, alcune delle quali pranzeranno nella sala polivolente, agli altri sarà portato il pranzo nelle singole sezioni. A cucinare ci saranno gli chef dell'alberghiero di Cavaglia e in rappresentanza dell'istituto interverrà anche la vice dirigente e questi chef saranno Salvatore Zuppardi, Alfio Gangarossa, Luigi Glave, Davide Zanchetta e Alberto Peveraro. Invece a rallegrare il pranzo non soltanto nella sala polivolente durante il pranzo, il pasto, ma anche poi nelle singole sezioni replicando, quindi davvero un grande grazie anche a loro, ci saranno gli artisti Nora Grand e Giovanni Panato che sono due cantanti locali. Infine, ultimo ma non ultimo, il minorile di Cagliari, Quartuccio. A Quartuccio i pasti saranno 30 circa e qui serviremo il pranzo ai minori con uno chef d'eccezione per chi si tratta di William Pizzalis che era un giocatore del Cagliari, fondatore di una scuola, una scuola di cucina che si chiama l'Accademia del Buon Gusto. Cosa ha fatto questo uomo, William Pizzalis? Ha creato questa accademia in un quartiere che si chiama Quartiere Sant'Elia, che è un quartiere degradato della zona con l'intento di riscattare proprio quelli che sono i ragazzi che invece a cui la società magari non offre una possibilità e che in questo modo hanno una possibilità di crearsi un futuro dignitoso. Insieme a William Pizzalis c'è un docente della scuola dell'Accademia che si chiama Marcello Puzzu, che è lo chef di un ristorante notissimo di Cagliari che si chiama Saschironada Bistrò. Il cibo, il menu sarà tipicamente sardo, ma chiaramente gourmet adatto all'occasione natalizia e a rallegrare questi ragazzi si terrà un concerto, anche qui un concerto natalizio, ad opera della Corale Regionale del Rinnovamento nello Spirito Santo. Io vorrei non solo sottolineare l'eccezionalità dell'evento in un tempo così sfidante, ma vorrei ringraziare tutti quei produttori, tutti gli chef, tutte le persone, tutti i volontari che si sono messi a disposizione con una generosità incredibile, tutti quelli che con generosità dalla carne al pane, dalla pasta ai dolci hanno offerto prelibatezze gastronomiche che non solo sprigionano un gusto al palato, ma che sprigionano un sapore speciale di bene, un sapore speciale d'amore per un pranzo d'amore. E vorrei ringraziare tutti gli artisti che si mettono a disposizione per servire questi fratelli che così si sentono davvero speciali e che si sentono amati. E allora grazie di averci dato questa possibilità, grazie ai direttori degli istituti penitenziari, grazie agli operatori all'interno degli istituti penitenziari che ci permettono anche quest'anno, nonostante le difficoltà, di realizzare questo evento per noi prezioso. Grazie a tutti. Grazie davvero a Marcella Clara Reni che ci ha spiegato nel dettaglio come saranno organizzate e vissute queste giornate. Mi pare che nell'intervento di Marcella si mettesse in evidenza da un lato la disponibilità umana delle persone coinvolte ma dall'altro lato anche i talenti messi a disposizione. Ed è proprio quello che vorrei chiedere a Gianfranco Pascucci, chef stellato del ristorante Pascucci a Porticciolo a Fiumicino, che cucinerà proprio qui a Re Bibbia, una doppia domanda appunto sia relativa alla cucina in senso stretto ma anche allo stato d'animo. Che cosa significa per lei cucinare il pranzo di Natale, questo pranzo d'amore qui e che cosa preparerà? Bene, innanzitutto vorrei ringraziare le molteplici persone che ho incontrato e che sto continuando incontrare in questo percorso che mi avvicina poi al pranzo natalizio. In primo luogo Salvatore Martinez per le grandi parole, non belle parole che ha pronunciato nell'apertura, che fanno riflettere e che hanno una valenza secondo me a 360 gradi in tutto il mondo che noi frequentiamo perché si accennava anche alla tavola, non si sta insieme con gli estranei, non si sta insieme con i nemici e qui mi riallaccio a quello che può essere il mio contributo. Io sono un cuoco, quindi il mio mondo è la cucina e ho grande rispetto della cucina e ovviamente la spinta giornaliera è quella di poter cucinare per le persone, cioè di potersi esprimere e dare un qualcosa che poi possa accomunare le persone. Questo viene da una tecnica, da un istinto, ma anche dalla volontà di far provare piacere, quindi di stare insieme, di unire. Quindi la cucina è unione. Io in questo momento non sono altro che un mezzo per poter realizzare uno scopo. Lo scopo è quello di poter ricordare un momento e un gusto e di allacciarlo a tantissime altre cose che sono altre sensazioni. Quindi sono onorato di questa possibilità, è una forma di espressione. Poi per quello che riguarda il menù, oggi con Alessia Rampazzi abbiamo fatto una gita all'interno e abbiamo visto, almeno io sono rimasto impressionato, una realtà interessantissima, ci sono serre, c'è la possibilità di raccogliere delle cose e quindi il mio menù si è trasformato. Noi cucineremo per 320 persone all'interno di una cucina che è ben organizzata e quindi siamo più tezione noi del nostro ristorante che le persone che sono qui, che sono abituate a questo. Però diciamo che ci sarà la zucca, ci sarà il cavolo toscano e poi ci saranno dei piatti abbastanza semplici, tipo l'insalata di mare perché noi portiamo il mare, ci sarà una pasta con il baccalà, immaginiamo una pasta fatta con il tonno che diventa uno stracotto, quindi di matrice romana. Ecco, cercherò di portare in tavola un qualcosa che crei famiglia, che abbia una tradizione, che abbia un gusto ben codificato ma che poi magari abbia anche un qualcosa in più perché altrimenti sarebbe stato inutile. Quindi è un grande momento di incontro, è un grande momento per la cucina, cioè i grandi momenti della cucina non sono solo quelli delle premiazioni o i momenti in cui si parla di un piatto per la sua, posso dire, innovazione. I grandi momenti della cucina sono la sua matrice essenziale, che significa stare a tavola e condividere un gusto. Un gusto diventa, trasmette un pensiero, trasmette comunanza. Oggi io qui mi sento molto più vicino alle persone che ho incontrato e che ho stretto solo la mano e quindi grazie, grazie proprio a voi. Quindi ringrazio Salvatore Martinez, Marcella Carrarini di cui ho sentito parlare prima, Aressia D'Ampazzi e Emanuele Ascatena che mi ha coinvolto in questa nuova realtà. Ecco, quindi sono pronto, un coraggioso e spero che vada tutto bene. Io credo che quello che ha detto Gianfranco sulla cucina e sullo stare a tavola valga anche per la musica, il cui ultimo fine non è quello di vincere una gara, un festival, ma è quello di far stare bene insieme, appunto quella parola magica che è condividere. Per questo chiedo prima a Francesca Alotta e poi a Tiziano Leonardi il significato per loro di partecipare e di rendere ancora più emozionante questo pranzo d'amore e che cosa hanno preparato loro in qualche modo per questa giornata. Francesca. Intanto ringrazio veramente Salvatore Martinez e anche Marcella Reni per tutto quello che stanno facendo per le persone che non sono, sono definiti gli ultimi, ma sicuramente sono persone che devono essere ricordate sempre e cercare di fare sempre qualcosa. Io credo che noi artisti, penso anche Tiziano la pensi come me, noi artisti abbiamo il dovere morale di fare qualcosa per gli altri perché abbiamo avuto il dono da Dio di poter cantare, suonare e dare emozioni. Quindi credo che sia per noi veramente un dovere importantissimo diffondere gioia, emozioni e far riflettere anche perché è importante mandare tanti messaggi con la musica. Io ho preparato insieme a un chitarrista dei brani per cercare di far passare una giornata un po' diversa in modo tale che si possa star bene tutti. Spero di organizzare anche delle altre cose insieme con voi, ringrazio Alessia Rampazzi che è veramente una grandissima direttrice perché è veramente una donna molto disponibile e sensibile, questo è molto importante per chi purtroppo è meno fortunato. Credo che io nella mia vita ho avuto un'opportunità, ho avuto un problema serio di salute e ho avuto purtroppo il cancro, ma questa cosa mi ha dato la voglia di rinascere. Credo che anche dalle cose negative si possa in qualche modo trovare una via per rinascere. Ecco, questo vorrei condividere con le persone che magari in questo momento non sono fortunate e stanno qui per motivi vari, dare un'opportunità anche di sentirsi un pochino meglio e magari potremmo organizzare qualche cosa, qualche evento in modo tale che magari la musica possa essere una via per poter sfuggire in qualche modo e rifarsi una vita. Ecco, rinascere, quello che vorrei che potesse essere utile anche per loro. Grazie. Tiziano, la stessa domanda, Tiziano, non ha neanche bisogno di presentazione, tastierista dei cugini di campagna. Allora, raccontaci perché sei qui e che giornata sarà, che cosa proporrai? Noi siamo felici, mi rilaccio a quello che ha detto il Presidente Martinez, parlava di responsabilità civile. Ecco, noi ci sentiamo responsabilizzati nel senso buono. Sappiamo che possiamo fare qualcosa, possiamo dare qualcosa e sappiamo che le nostre canzoni, che comunque è un fatto tecnico, sono amate da più di mezzo secolo a questa parte, appunto come diceva Francesca, sono delle cose che noi abbiamo come dono e che dobbiamo ridare. Dobbiamo ridonare e noi ce ne sentiamo comunque responsabilizzati. Sappiamo che comunque in un posto come questo, in un posto, in un momento come questo, vale il quadrato, non il doppio, al quadrato tutto quello che facciamo. D'altronde, far sentire in famiglia delle persone che hanno visto la loro libertà privata e che, fermiamoci un attimo a pensare, non possono vedere normalmente i loro figli. Sembra una frase retorica, ma pensiamoci un attimo, non poter vedere i propri figli e poter stare. Magari abbiamo sentito l'iniziativa dei 40 detenuti del carcere di massima sicurezza che potranno rivedere i propri figli. Pensate quanto vale, non vale doppio, vale il quadrato. E noi in questo contesto, noi come Francesca, ma come anche l'eccellenza enogastronomica, appunto, che interverranno di Gianfranco e di Emanuela, che non vedremo l'ora di conoscere anche dal punto di vista, va detto, ci sentiamo che dobbiamo rispettare e ci sentiamo che dobbiamo comunque onorare con quello che possiamo fare, perché poi noi doniamo, ma l'entusiasmo che ridonano certe persone in certe condizioni è un dono anch'esso, non ci scordiamo. Sembrano frasi retoriche, ma noi siamo qua perché ci crediamo, lo sappiamo e sicuramente siamo mossi da un sentore anche, ecco, religioso, perché no? Poi il Natale è magico, il Natale è stupendo e molte persone che magari non credono lo sanno anche loro in cuor loro, che il Natale è bello perché comunque è un fatto umano, esiste. Magari tarpano un po' questa gioia, questa bellezza, ecco, noi ci siamo e facciamo anche per persone che magari non hanno il nostro stesso furore, scusate la parola un po' magari inopportuna, ma il nostro fervore, ecco, questo sì, e noi ci crediamo e siamo qui. Dal punto di vista musicale, beh, noi, non lo so, siamo cugini e quindi faremo sentire in famiglia, scusate la battuta, ma comunque quanto mai è azzeccata, faremo sentire in famiglia tutte le persone che avranno il piacere di ascoltarci, quello sicuro. Proporremo delle nostre cose, magari ecco, vedremo anche grazie all'ausilio dei tecnici che comunque già stanno premonendosi per cercare di dare il massimo delle nostre canzoni, anche dei piccoli jingle a cappella, perché no? E poi portare, lo diciamo, senza borri, la nostra simpatia, la nostra allegria in un giorno dove, ripeto, non vale il doppio ma vale il quadrato, assolutamente. Grazie. Quando si raccontano appuntamenti belli come questi, legati al Natale, viene sempre una domanda, vabbè, ma passate le feste e che cosa succede? Finisce lì? È stata una bella giornata, magari indimenticabile? Non è il caso di questo appuntamento, perché questo appuntamento vuole in un certo senso continuare e produrre altre esperienze che accompagnino le persone che sono qui in carcere e che non le regalino soltanto un momento di gioia, ma aprano una strada. Allora, Altra Cucina non è soltanto il nome del pranzo d'amore di martedì, ma anche di un'iniziativa che riguarda il reinserimento delle persone detenute, un'iniziativa che ci spiega Emanuela Catena, Master Sommelier e Presidente dell'Associazione Wines. Buongiorno a tutti e volevo approfittare innanzitutto per fare i miei ringraziamenti per essere qui e per poter partecipare ad un progetto così coinvolgente. Abbiamo sentito parlare finora di tantissimi termini che mi hanno colpito, a partire dalla responsabilità di cui parlava Tiziano, dalla rinascita e sono tutti quanti termini che sono di fondo legati strettamente appunto a questo progetto che nasce con l'idea di poter appunto offrire ai detenuti la possibilità poi di iniziare da qui un percorso per poter poi reinserirsi in un determinato modo, con professionalità, con convinzione, in un mondo, quello esterno, che gli consenta appunto di avere nuovi sbocchi lavorativi. Quindi l'idea è quella di appunto iniziare un percorso formativo che verrà inizialmente presentato all'interno delle carceri stesse e che poi verrà approfondito anche al di fuori. Quindi mi sembra, ecco, soprattutto in questo periodo del Natale, soprattutto visto lo storico, l'anno che abbiamo appena passato, insomma un momento importante perché comunque segna la possibilità di creare uno storico per ogni persona, per intraprendere un percorso che sia di fondo un sostegno per la persona stessa, per poter intraprendere con una nuova consapevolezza, una nuova passione, un nuovo percorso di vita e che crea al tempo stesso una figura professionale che consenta anche all'esterno di poter apprezzare e voler appunto in qualche modo reinserire in un settore quello della ristorazione che come non mai subisce delle difficoltà legate sicuramente al Covid, ma non solo nel reperire personale. Quindi l'idea è nata da quella. Essendo nell'ambiente sono diversi mesi e anni che sento da entrambe le parti difficoltà obiettive nel reperire personale. Quindi l'idea è nata lì. Perché non dare questa possibilità a persone che necessitano forse più degli altri in questo momento di avere qualche certezza e qualche garanzia in più. Quindi questo spero che sia all'inizio di un lungo progetto e che a noi sicuramente regalerà tanta soddisfazione, ma che soprattutto regali concretezza e possibilità reali. Grazie davvero. Emanuela, a proposito di concretezza c'è un'altra iniziativa che si chiama Auxilium che vogliamo raccontarvi perché significa appunto stare accanto alle persone detenute e alle loro famiglie non soltanto nel giorno di festa, ma anche nei giorni successivi. Salvatore, che cos'è Auxilium? Sì, permettimi Gennaro intanto di ringraziare chi mi ha preceduto per l'entusiasmo, la passione, il coinvolgimento sincero che ho avvertito e che spero anche voi da casa abbiate voluto cogliere. Perché qui si crea una famiglia che sta dentro una casa e dunque muoversi con questa sintonia non è un fatto per nulla scontato. Il progetto Auxilium giunge alla terza edizione e qui il discorso è particolarmente delicato perché riguarda in special modo i figli. Alla iattura che le famiglie dei detenuti subiscono, vorrei dare soltanto alcuni dati perché questo sia chiaro, quando viene a mancare un reddito e in genere in molte famiglie il reddito è prodotto dal capofamiglia dunque dalla figura maschile, i dati ci dicono che l'80% della popolazione carceraria coinvolta dal reato entra in condizione di indigenza. Indigenza è più che povertà. Se si entra dentro questo mondo, il mondo delle famiglie e dei detenuti, si scoprono delle cose davvero assai poco raccontate e drammatiche proprio perché talvolta non trovano soluzione. Abbiamo attenzionato il fenomeno di figli portatori di handicap o di figli che hanno situazioni di gravi malattie e mancano di assistenza sanitaria, di medicine o di cure specialistiche. dunque non si tratta soltanto di dare vestiario o alimenti ed è già cosa assai preziosa ma di prendersi cura anche della salute di questi bambini altrimenti abbandonati. Qui mi sia permesso perché le parole che sto per pronunciare sono estremamente significative. Quando Gesù dice ero carcerato e siete venuti a trovarmi, nel caso specifico parlando di auxilium parliamo di carceri che sono le case dei detenuti e non soltanto gli istituti di pena, le case circondariali. Ma Gesù dice ero nudo, mi avete vestito, avevo fame, mi avete dato da mangiare. Cioè si scopre che tutte queste che noi chiamiamo opere di misericordia stanno tutte dentro una stessa casa. E dunque è un mondo incredibile quello che si apre dinanzi ai nostri occhi. Ho cominciato a occuparmi di giustizia riparativa 15 anni fa e qui voglio dire qualcosa che non sempre si racconta. Le mafie, le organizzazioni criminali puntano moltissimo sul disagio che c'è all'interno di una famiglia e in particolar modo dei figli. Un modo per reclutare nelle carceri nuove leve sta proprio nel mantenere la famiglia. Il cosiddetto pizzo in molti casi finisce proprio per il sostegno della famiglia. Quindi laddove non arriva lo Stato, laddove non arriva la società civile o vorrei dire ancor prima entrano le organizzazioni malavitose che assicurano il sostentamento alla famiglia e il reclutamento dei loro figli. Dunque si tratta di entrare dentro le maglie di qualcosa di estremamente delicato. Il progetto Auxilium sostanzialmente guarda a questa tipologia perché capite che non si può fare tutto, si vorrebbe far tutto ma servono risorse. Le risorse sono quelle del 5 per 1000 e della generosità di molte persone che contribuiscono a questa iniziativa. Abbiamo individuato questa tipologia dentro l'Auxilium, dunque l'aiuto. Familiari, nuclei familiari con quattro persone e con un coniuge evidentemente ristretto, quindi in regime di detenzione. Che ci sia un figlio, almeno un figlio disabile a carico e in terzo luogo che il reddito sia, come vi dicevo, sempre più prossimo alla condizione di indigenza, quindi oltre le soglie di povertà. Viene pubblicato un bando nazionale con una commissione che valuta tutte queste richieste. Le richieste che abbiamo ricevuto per l'anno e quindi per il progetto che sta per iniziare sono 85 su tutto il territorio nazionale. Dunque per la terza edizione Auxilium attesta questa forma di prossimità concreta e di sostegno alla famiglia, in particolar modo al destino, al futuro dei nostri figli e di questi figli. Grazie Salvatore. Il racconto è completo però ha bisogno di qualche nota piepagina di informazioni e anche tecniche che ci darà Francesca Cipolloni dell'ufficio stampa del rinnovamento nello spirito. Francesca. Gennaro, anzitutto grazie, non avevamo dubbi ma con la tua maestria, competenza e anche passione si è avuto cucinare. Usiamo questo termine benissimo tutti i passaggi. Ovviamente non essendoci la classica interazione da conferenza stampa, comunichiamo qua alcune informazioni di servizio. Al termine di questo incontro riceverete la cartella stampa con tutte le note aggiornate, i numeri che sono stati oggi presentati, che sappiamo per la stampa sono sempre appetibili. Contrariamente agli anni precedenti, vi diamo alcune note tecniche per potervi accreditare e dunque partecipare all'iniziativa di martedì prossimo. Non serve autorizzazione preventiva come nelle passate edizioni, ma vi chiediamo cortesemente di farci sapere la disponibilità della vostra presenza. Basta essere comunque iscritti regolarmente all'albo giornalistico. A motivo della pandemia, come potete ben capire, gli ingressi saranno a numero limitato per la stampa, però ovviamente i colleghi giornalisti sono benvenuti. Sarà necessaria, scontato dirlo, la certificazione verde e quindi il Green Pass rafforzato. Quindi sappiamo che in questo periodo queste informazioni sono veramente fondamentali, quindi questa è la prima richiesta di cui necessitiamo. Ovviamente oltre al Green Pass sono necessari sia il documento di riconoscimento, la tessera giornalistica e la comunicazione delle attrezzature necessarie. Ricordiamo che nelle carceri non sono ammessi cellulari e smartphone, quindi ci isoliamo per un po' di tempo, ma anche questo è uno spazio benefico. Ovviamente vi chiediamo di confermarci comunque al nostro indirizzo le vostre presenze. Telefonicamente via mail rimaniamo ovviamente a completa disposizione e confidiamo nella vostra piena collaborazione e attenzione. In ultimo, come ufficio stampa, io vorrei ringraziare veramente la direzione della Casa Circondariale di Roma Repibbia, ovviamente il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, perché ci hanno veramente supportato e consentito e agevolato nella comunicazione di questo evento. Non basta saper fare, bisogna far sapere, dice un famoso detto e quindi la comunicazione e la promozione passerà attraverso la vostra collaborazione che sappiamo essere sempre disponibile e attenta. E quindi con l'augurio ci diamo la rivederci alla prossima edizione, augurandovi un buon pranzo d'amore e ovviamente un buon Natale.